Ha preso il via a Palermo iDesign, la Design Week fondata e diretta da Daniela Brignone è giunta alla sua dodicesima edizione in corso fino al prossimo 6 ottobre in diversi luoghi del capoluogo siciliano. Molti gli ospiti della manifestazione, fra designer di fama nazionale ed internazionale, giovani affermati designer siciliani, aziende di settore, istituzioni pubbliche e private, per un programma che per dieci giorni si articolerà fra mostre, inaugurazioni di nuovi spazi, incontri culturali e approfondimenti. Il tema di quest'anno, Andar per Mondi, apre all'idea del viaggio inteso in senso fisico, mentale e spirituale. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. La manifestazione, in collaborazione con l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, patrocinata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, da quest'anno è inserita nel calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico dell'Assessorato al Turismo della regione siciliana. Ieri mattina, al convitto nazionale Giovanni Falcone, in piazza Settangeli, nell'ambito della cerimonia di avvio del nuovo anno scolastico, è stata inaugurata a tutte le piante del mondo, installazione promossa dall'Accademia di Belle Arti di Palermo, in collaborazione con il convitto nazionale Giovanni Falcone, che nasce dall'esame di esemplari botanici all'indomani della loro migrazione. La pianta conserva delle caratteristiche originarie, ma muta, si adatta e cresce in contesti spesso radicalmente diversi da quelli di partenza. Ieri pomeriggio, nella Calavallerizza di Palazzo Costantino, in via Macheda 217, grazie alla collaborazione fra iDesign e il mecenate Roberto Bilotti, si è aperta a Domestico Mediterraneo, curata da Giuseppe Arezzi, interior designer e docente, è promossa dall'Accademia di Design e Comunicazione Visiva di Catania. La mostra, che riunisce una serie di oggetti arredi realizzati dagli allievi dell'Accademia, in collaborazione con aziende del Sud e del Centro Italia, parte dalle tradizioni vernacolari radicate nel genio sull'Oci dei territori mediterranei, per indagarne la trasposizione nel design contemporaneo, che richiama i paesaggi, la storia, gli immaginarie e le tradizioni del Sud dell'Europa. Nell'atrio di Palazzo Costantino è in mostra anche una scenografica installazione della designer Rosa Vetrano, il nido rovesciato, che si pone l'obiettivo di indurre a riflettere sulla connessione tra i luoghi abitativi e la nostra psiche, declinato attraverso luce, colori, suoni, odori e esperienza tattile, che assicura protezione e libertà allo stesso tempo.